Ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo di Arceus, il Pokémon leggendario. Iniziamo subito. Prima di tutto, che serie è? Beh, Arceus è un leggendario. Dove lo... Numero due. Quanto potrebbe essere speciale trovarlo? Cioè, quanto è prezioso un Arceus V? Bene, in realtà deve essere tipo fra i 10, no, forse fra i 13, cc, e 60 centesimi. Quindi vale un bel po'. Poi, cioè, qual è l'attacco più forte che ha? Va, diamo. Allora, è Power Edge. Praticamente, poi c'è un altro attacco. Trinity Cave. Praticamente questo non serve a niente. Trinity Cave Change, in realtà, serve per ricaricarlo. Tipo, tipo, sta morendo, gli dai un 3 di energia, 3 di energia e si riprende. Poi, ma se Arceus V è raro e costa un bel po'. Quanto costa un Arceus... Quanto è un Arceus V Star? Beh, un Arceus V Star, invece, deve essere tipo dal costo di 13,37 euro. Oppure, se hai un Arceus V Star della Mega Evoluzione, quello, invece, vale tipo 18,50 euro. Bene, e questo è tutto per lo show Pokémon Company. Studi TV. Grazie a tutti.